eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi parleremo di contenuti veramente molto molto importanti per quanto riguarda i dlc di call of duty black ops 4 come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace arriviamo a 500 mi piace per il prossimo video informativo piccola premessa su call of duty world war 2 perché la sledgehammer games ha rilasciato informazioni molto ma molto importanti ieri sera innanzitutto ha svelato che questa settimana dal capitano butcher ci sarà il contratto con il blunderbuss che sarà attivo fino alle ore 19 del 10 di luglio altra cosa molto importante i tripli punti sul multiplayer doppi punti esperienza doppi punti divisione doppi punti arma all'interno del gioco grazie appunto all'evento che appena arrivato liberty strike terza notizia su call of duty world war 2 sono stati svelati contenuti relativi all'evento community challenge liberty strike event praticamente sono cinque le ricompense che potremmo avere ovviamente a raggiungimento delle varie percentuali delle vittorie con tutta la community e quindi potremmo sbloccare un biglietto da visita canadese ovviamente una mimetica arma con la bandiera britannica la variazione americana 2 della pistola 19 11 un elmetto speciale e un lancio di rifornimento per la modalità zombies mentre a livello 5 avremo la variante dell'm1 garand che prende il nome di independent 2 e una variante di un'arma zombies chiamata kiss kiss passiamo invece a parlare di call of duty black ops 4 perché sembrerebbe che una persona che abbia un amico all'interno di un'azienda vicina ad activision gli sia stato svelato o meglio gli siano stati svelati contenuti che troveremo all'interno di black ops 4 per quanto riguarda proprio un vero e proprio calendario di tantissimi contenuti andiamo a vedere a novembre dovrebbe essere rilasciata gratuitamente la mappa nuketown a dicembre un'altra mappa gratuita a tema invernale a gennaio il black ops mappa 1 e una mappa zombies mentre a febbraio avremo la black ops mappa 2 e la mappa 3 a marzo il primo pacchetto contenente tre mappe multiplayer e una mappa zombies ci sarà una mappa gratuita e un altro black ops con una mappa 4 ad aprile una black ops mappa 5 e una zombies mappa 2 a maggio una mappa 6 e un'altra mappa gratuita numero 3 a giugno il secondo pacchetto il secondo dlc contenente altre tre mappe multiplayer e una mappa zombies e ci saranno altre due mappe del black ops la mappa 7 e la mappa 8 a luglio una mappa zombies 3 una black ops mappa 9 un'altra mappa gratuita che è la numero 4 ad agosto uscirà il terzo dlc contenente altre tre mappe multiplayer quindi siamo già a nove mappe e la terza mappa zombies e un'altra black ops mappa 10 mappa 11 a settembre una black ops mappa 12 una mappa 4 zombies e ad ottobre l'ultimo dlc il quarto contenente altre tre mappe multiplayer quindi siamo arrivati a 12 mappe multiplayer per quanto riguarda i dlc e per finire la quarta mappa zombies vedendo questi contenuti trapelati della notte appunto svelati da un amico che ha appunto una conoscenza all'interno sembrerebbe di activision arriveranno veramente tantissimi contenuti come aveva svelato la tre iarche quindi ogni mese ci saranno mappe gratuite e mappe ovviamente a pagamento quelle contenute all'interno del black ops staremo a vedere comunque se venisse confermato questa cosa ci sarebbe un circolo continuo ogni mese di novità all'interno del titolo della tre iarche vi terrò aggiornati ovviamente sulla notizia fatemi sapere intanto qui sotto nei commenti che cosa ne pensate arriviamo a 500 vi piace per il prossimo video informativo e noi ci vediamo con tanti nuovi video